Sarà un anno ricco di conclusioni, si tireranno le somme per molti processi che si tengono a Caltanissetta. È arrivato alle battute finali il processo alla giudice Silvana Saguto, previsto per marzo la sentenza di secondo grado. La requisitore inizierà il 27 di gennaio. In primo grado l'ex presidente delle misure di prevenzione del Tribunale di Palermo è stata condannata a sette anni. Coinvolto anche il suo cerchio magico che deteneva potere e affari, secondo la procura, sulle misure di prevenzione dei beni confiscati. È prevista invece in primavera la sentenza del processo che riguarda il depistaggio delle indagini di Via D'Amelio, imputati tra poliziotti. In tema di sentenze di secondo grado, anche l'appello del processo montante va verso la conclusione, la tranche dove è imputato l'ex presidente di Sicindustria e di altri sette. In primavera, verdetto d'appello, in primo grado montante fu condannato a 14 anni. Per alcuni processi che si concludono, un altro, sempre dedicato al sistema montante, si aprirà. Dopo tre anni, il rinvio a giudizio della tranche dedicata alla politica. Previsto l'udienza preliminare per il 22 di gennaio del montante bis.